Buonasera Cortona, fatemi sentire, vengo a palle, buonasera. Panariello versus Masini, l'incontro tra i due artisti diventa il ritorno per una seconda tournée che è andata in giro per tutta l'Italia e che è stata applauditissima. Cortona rappresenta una delle ultime tappe di questa lunga maratona estiva ed è anche l'appuntamento, la punta di diamante di questa Cortona antiquaria, la mostra antiquaria cortonese più antica d'Italia e che rimarrà aperta fino all'8 di settembre. Un cantante e un comico sul palcoscenico, uniti non solo dalla loro toscanità ma soprattutto da un'amicizia lunga e duratura. Ognuno con la propria sensibilità si sono incontrati e scontrati in una sfida fra battute e canzoni che ha infiammato Piazza Signorelli a Cortona, gremita fino a quasi straripare per assistere allo show. Due ore di risate ed emozioni dove Panariello non ha mancato di proporre gag e irresistibili sketch comici con i suoi personaggi più celebri e amati. E Masini ha intonato le sue canzioni, colonna sonora di ragazzi e ragazze degli anni 90. Tra i momenti magici anche un commovente omaggio a Francesco Nuti con la bellissima interpretazione di Masini di Sarà per te. Sarà, sarà, sarà per te. Grazie